Musica Ormai ufficialmente chiuso lo spoglio per le elezioni regionali in Campania, analizziamo nel dettaglio i dati. Vincenzo De Luca viene confermato presidente della regione Campania con il 69,48% delle preferenze, oltre il 50% in più del secondo classificato Stefano Caldoro, che si ferma al 18,06%. Valeria Ciarambino del Movimento 5 Stelle non supera intanto il 10% e si ferma al 9,93%. I dati definitivi consentono di avere una panoramica del prossimo consiglio regionale. Saranno 32 i consiglieri di maggioranza, numero massimo consentito dalla legge elettorale campana, ai quali si aggiunge il presidente De Luca. Al centrodestra, oltre al seggio che spetta al candidato Stefano Caldoro, vanno invece 10 seggi. Il Movimento 5 Stelle siederà in consiglio regionale con 7 consiglieri, stesso numero della scorsa consigliatura. Il gruppo più folto sarà quello del Partito Democratico che elegge 8 consiglieri, 4 dei quali eletti nella circoscrizione di Napoli. Tra questi spicca il nome di Mario Casillo, consigliere più votato in assoluto in Campania con 42.350 preferenze. Sono 6 consiglieri eletti con la lista De Luca Presidente, 4 quelli di Italia Viva, 2 consiglieri a testa per le liste Campania Libera, Fare Democratico Popolari, Noi Campani, Liberal Democratici, Moderati e Centro Democratico, un consigliere a testa per Partito Socialista Italiano, Più Campania in Europa, Europa Verde Davvero, Partito Animalista. 4 i partiti del centro-destra che entrano in consiglio regionale della Campania. Fratelli d'Italia con 4 consiglieri, Lega con 3, Forza Italia con 2 e Udc con un consigliere solo. Completano il nuovo consiglio regionale i 7 consiglieri del Movimento 5 Stelle, tra i quali è presente Valeria Ciarambino, candidata a presidente e inserita anche nella lista dei candidati al consiglio in posizione di capolista. In occasione della prima seduta, il consiglio regionale eleggerà anche il suo nuovo presidente, che sostituirà Rosa D'Amelio, candidata del PD nella circoscrizione di Avellino, ma che ha mancato l'obiettivo della rielezione. Per il Partito Democratico sono eletti 8 consiglieri regionali, Maurizio Petracca, Erasmo Mortaruolo, Gennaro Oliviero, Mario Casillo, Loredana Raia, Bruna Fiola, Massimiliano Manfredi e Francesco Picarone. 6 seggi per De Luca presidente, eletti Vittoria Lettieri, figlia dell'ex sindaco di Acerra Raffaele Lettieri, l'assessora regionale all'istruzione Lucia Fortini, il consigliere uscente Carmine Moscerino, eletto nel 2015 con Caldoro presidente, Paola Raia e gli uscenti Giovanni Zannini e Luca Cascone. 4 consiglieri per Italia, viva, sono il vice sindaco della città metropolitana di Napoli, Francesco Jovino, l'uscente Vincenzo Alaia, Vincenzo Sant'Angelo e Tommaso Pellegrino. Due consiglieri per Campania Libera, Giovanni Porcelli e Nino Savastano. Fare Democratico Popolari, l'ex sindaco di Mariglianella, Felice Di Maiolo, e l'assessore regionale al turismo Corrado Matera. Per noi campani, Maria Luigia Iudice e Luigi Abate. Per Liberal Democratici, moderati Giuseppe Sommese, figlio dell'ex consigliere Pasquale Sommese. E poi Pasquale Difenza e per Centro Democratico, Giovanni Mensorio e Raffaele Piscane. Un consigliere per il Partito Socialista Italiano, Andrea Volpe. Mentre per più campani in Europa, il consigliere comunale di Napoli, Fulvio Frezza. Per Europa Verde, Demos, il consigliere uscente Francesco Emilio Borrelli. E per davvero partito animalista, Livio Petitto. Quattro i seggi per Fratelli d'Italia, gli uscenti Michele Schiano di Visconti, Alfonso Piscitelli, che fu eletto nel 2015 nelle liste di De Luca, il consigliere comunale di Napoli, Marco Nonno e Nunzio Carpentieri. Tre per la Lega, l'ex assessore regionale Severino Nappi, l'uscente Giampiero Zinzi e Attilo Pierro. Due per Forza Italia, l'uscente Massimo Grimaldi e Anna Rita Patriarca. Ed uno per l'Udc, Gennaro Cinque. Sette invece i consiglieri per il Movimento 5 Stelle sono la candidata governatrice Valeria Ciarambino, gli uscenti Gennaro Saiello, Maria Muscarà, Luigi Cirillo, Michele Cammarano, l'ex sindaco di Avellino Vincenzo Ciampi e Salvatore Aversano. Alcuni seggi inoltre potrebbero essere però modificati per il rispetto dell'alternanza di genere. E partita mercoledì 23 settembre dal cortile delle carrozze con jazz, phon e orchestra, la rassegna invito a corte che vede protagonista il teatro di San Carlo di Napoli negli spazi del Palazzo Reale dal 23 settembre all'11 ottobre. Un festival della musica che nasce da una ritrovata sinergia tra il San Carlo, la soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, il polo museale per la Campania, Palazzo Reale e la Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III con il supporto della regione Campania. Jazz Phony Orchestra, formazione di componenti dell'orchestra del teatro di San Carlo, eseguirà i temi più significativi della tradizione operistica italiana con un linguaggio e delle sonorità proprie della musica jazz. Le musiche originali sono composte ed arangiate da Pasquale Bardaro, la voce della Jazz Phony Orchestra e di Sara Wanderwerth al sax alto e clarinetto Luca Sartori, Riccardo Serrano al corno, Stefano Bartoli al clarinetto piccolo, Luca incoronato al fagotto, Giuseppe Cascone, Francesco Capocotta e Alessandro Modesti alla tromba, Gianluca Camiglia e Roberto Bianchi al trombone, Pasquale Bardaro al vibrafono, Mirco Maria Matera al piano, Vincenzo Mauro Giovanni al basso e Pierluigi Villani alla batteria. Prossimo appuntamento di invito a corte, venerdì 25 settembre, sabato 26 alle ore 20, nuovamente nel cortile delle carrozze con celebri cori d'opera dell'Ottocento. Il coro del teatro di San Carlo, diretto da Gea Garatti Ansini, è accompagnato al pianoforte da Vincenzo Caruso ed eseguirà i più famosi cori del repertorio lirico, composti da autori come Verdi, Bellini, Donizetti, Mascani, Leoncavallo, Bizet e Offenbach. Desidero pubblicamente ringraziare, dichiara il sovraintendente del teatro di San Carlo di Napoli, Stefan Lissner, il maestro del coro Gea Garatti Ansini, per il lavoro svolto in questi anni e per la fattiva collaborazione che ha sempre avuto con la Fondazione Teatro di San Carlo. Un lavoro che ha permesso una crescita ed una valorizzazione dei nostri artisti del coro. Sin dal primo giorno del mio insediamento, continua Lissner, ci siamo confrontati su diverse tematiche artistiche, trovando sempre una sinergia di intenti ed una convergenza di vedute sugli obiettivi da raggiungere nel rispetto delle reciproche competenze. Di comune accordo abbiamo deciso che la collaborazione terminerà a fine stagione 2020-2021 ed a succederle sarà José Luis Basso, al quale rivolgo un augurio di buon lavoro nella certezza che con la sua riconosciuta professionalità saprà assolvere ad un impegno delicato e di estrema importanza per il nostro teatro. Il più triste è il momento perché senza ragazzi è tutto più amaro ma la memoria non viene certo cancellata da una pandemia momentanea. Anzi, mai come in questo momento c'è bisogno di impegno civile, di coraggio, di narrazione, di verità, di giornalisti autonomi e scomodi, di inchieste anche giudiziarie in un momento storico in cui il contagio criminale rischia di avanzare. Noi siamo orgogliosi di annoverare tra gli eroi della nostra città Giancarlo Siani che 35 anni fa, 26 anni, morì perché non si girò dall'altra parte nel raccontare gli intrecci tra camorra e politica. Nel 35esimo anniversario dell'uccisione del giornalista del mattino Giancarlo Siani per mano della camorra, si rinnova il momento del ricordo sulle rampie a lui dedicate, a pochi metri dal luogo dove fu ucciso, vicino casa sua. Presenti i vertici delle forze dell'ordine, l'assessore Alessandra Clemente e i rappresentanti della fondazione Polis. Successivamente, nel corso di un'iniziativa al cinema modernissimo e dalla presenza del presidente della Camera, Roberto Fico, è stato consegnato alla famiglia il tesserino dal giornalista professionista di Giancarlo, un riconoscimento per la sua professionalità che in vita non fece in tempo a ricevere. Per fortuna le cose cambiano, per fortuna il nostro impegno e quello dei tanti che insieme a me in questi lunghissimi 5 anni hanno fatto battaglie per non far dimenticare Giancarlo, oggi arriva un momento molto importante, non solo per il tesserino, perché il mattino regala articoli di Giancarlo. Giancarlo oggi non solo rivive attraverso il suo volto sorridente di giovane 26enne, ma parla, parla ai napoletani e allora questo è un segnale che le cose si modificano, ci vuole impegno, faraggio e perseveranza. Una figura fondamentale, importantissima, un giornalista di 26 anni che viene ammazzato in quel modo per fare davvero il suo lavoro, è un esempio positivo per tutta la città e ci ricorda anche quanto la nostra città e la nostra regione sia feroce e quindi ogni giorno dobbiamo riuscire a lottare centimetro per centimetro, metro per metro, strada per strada affinché la nostra città sia completamente libera dalla Camorra e questo lo dobbiamo fare anche in nome e in ricordo di Giancarlo Siani. Il nostro obiettivo fondamentalmente è coerente con quella che è la nostra battaglia storica rispetto all'università accessibile a tutti e quindi l'abolizione del numero chiuso sia sul livello nazionale che sul livello locale. A nostro avviso non ci sono sostanzialmente gli estremi per poter approvare questo accesso programmato poiché mancano quelli che sono i requisiti previsti all'ormativo ovvero laboratori ad alta specializzazione e posti studio personalizzati. Noi speriamo che i nostri ragazzi si iscriveranno sub-iudice quindi chiederemo la sospensiva al TAR di Napoli e una immediata ammissione con riserva perché i corsi ovviamente inizieranno a breve e chiederemo poi la conferma di questa sospensiva nella fase di merito per continuare a farli studiare e raggiungere i loro sogni e la loro professione. Ovviamente non ci fermiamo a quest'anno noi pensiamo che queste modalità possano essere attuabili anche per i prossimi anni infatti non contestiamo soltanto il modo becero in cui è stato istituito il numero chiuso ma noi censureremo non solo questa metodologia particolare di quest'anno noi contesteremo alla radice il numero chiuso perché sarà un ricorso che sarà volto non solo all'ingresso dei nostri oltre 100 ricorrenti ma sarà un ricorso diretto all'apertura completa di questo numero chiuso a Napoli. In continuità con la campagna di sensibilizzazione sul corretto conferimento delle mascherine svolta durante il lockdown da Lega Ambiente Campania, Ordine dei Farmacisti di Napoli e Feder Pharma Napoli parte il progetto a scuola sicuri e sostenibili. Si tratta di un percorso educativo che coinvolgerà più di 200 scuole a Napoli e provincia e diverse migliaia di studenti della scuola primaria. Nell'ambito del programma saranno distribuiti mille cestini dedicate al corretto conferimento delle mascherine, use e getta negli istituti scolastici e saranno realizzati percorsi di educazione ambientale destinati ad alcune scuole. Riccardo Maria Iorio, presidente di Feder Pharma Napoli e Maria Teresa Imparato, presidente di Lega Ambiente Campania. I bambini debbono iniziare una prevenzione quindi così come in farmacia è importante la prevenzione per poter prevenire alcune patologie e quindi anche portare un risparmio a tutti la comunità così nell'ambiente se il bambino riesce a capire sin da piccolo con il corretto in questo caso il corretto uso del disuso o meglio delle mascherine quindi dove gettare le mascherine non a terra, non in una pattumiera qualunque ma in appositi contenitori e con questo salvaguardiamo l'ambiente e cerchiamo di un mondo sempre più green e più aperto verso l'ambiente. Con una popolazione scolastica di circa 800.000 studenti e studentesse con due mascherine al giorno si arriverà a più di un milione e mezzo di mascherine da smaltire mascherine sicuramente molte usa e getta che bisogna conferire correttamente bisogna raccontare ai ragazzi e quindi con percorsi di educazione ambientale come faremo insieme per raccontargli di conferirli correttamente e non abbandonarli nell'ambiente però dall'altra parte c'è bisogno anche di utilizzare le mascherine certificate lavabili per evitare di arrivare a numeri così importanti. La Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in arresto un 27enne di Marano di Napoli e sequestrato all'interno del Parco Metropolitano dei Colli e dei Camaldoli 80 piante di cannabis indica dell'altezza media di oltre 3 metri per un peso complessivo di circa 400 kg. L'operazione è stata condotta dalla compagnia di Giuliano in Campania ed ha interessato una zona interdetta al pubblico. Il parco era di difficile accesso ma mediante un veicolo aereo della Guardia di Finanza è stata scoperta la folta vegetazione. Il giovane arrestato nell'allestire la piantagione di cannabal nascosta tra i rovi aveva persino montato una tenta da campo per trascorrere la notte nelle vicinanze e per raccogliere la marijuana entro le prime ore del mattino. Sequestrati anche gli attrezzi utilizzati per la potatura e l'irrigazione mentre le piante sono state successivamente estirpate e incenerite sul posto. Un altro importante risultato nella lotta alla droga che rientra nel piano di prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli nell'ambito del quale proprio i reparti del gruppo di Giuliano in Campania si sono particolarmente distinti sequestrando solo negli ultimi due mesi ben sei piantagioni di marijuana. Almeno quattro colpi di pistola esplosi in pieno giorno in una delle piazze principali della città ancora scene da far west a Giuliano erano da poco passate le 11 quando una banda ha tentato infatti l'assalto ad un furgone portavalori davanti alla banca Unicredit di piazza annusiata secondo la prima ricostruzione i vigilantes dopo aver visto gli uomini armati sono riusciti subito a rifugiarsi nel mezzo blindato con i soldi lì è scattata la reazione violenta dei malviventi che hanno esploso i colpi di pistola fortunatamente nessuno è stato raggiunto dai proiettili e non ci sono feriti sono stati momenti di terrore però per tante persone che si trovavano in strada in quel momento in tanti si sono rifugiati nei negozi o sono scappati in altre strade i rapinatori a bordo dell'auto sono fuggiti dunque a mani vuote il portavalori poco dopo è giunto al locale commissariato di polizia e sottoposto alle analisi del caso i poliziotti col supporto dei carabinieri hanno poi effettuato i rilievi anche sul luogo della sparatoria e acquisito le immagini di videosorveglianza della zona un'altra mattinata di paura dunque a Giuliano con una sparatoria in pieno centro e solo per un caso non ci sono vittime crescono i contagi da coronavirus in campania e contemporaneamente diminuisce la voglia di far riaprire le scuole pubbliche con un'iniziativa che va in questa direzione il sindaco di napoli Luigi De Magistris ha firmato l'ordinanza che prevede per le giornate del 24, 25 e 26 settembre la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine grado insistenti sul territorio del comune di Napoli che sono stati sede di seggi elettorali per le consultazioni referendarie e le elezioni regionali del 20 e 21 settembre scorso al fine di garantire la disinfezione dei locali scolastici e il ripristino degli spazi didattici per consentire l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico anche alla luce delle prescrizioni per il contenimento del rischio di contagio da coronavirus la decisione nel giorno in cui il bollettino ordinario della regione campania fa registrare questi numeri 156 nuovi positivi da sottolineare che in questo dato non sono mai contemplati i secondi o successivi tamponi di controllo seppur nuovamente positivi con 4.310 tamponi processati, poco più del giorno precedente il totale dei positivi dall'inizio della pandemia in campania è dunque di 10.659 unità con numero complessivo di tamponi fissato a 548.330 nessuna persona ha perso la vita a causa del covid nelle ultime 24 ore e si registra un considerevole numero di guariti, ben 98 il totale delle persone uscite dal tunnel del covid è di 5.247 unità il rischio di una seconda ondata di contagi, dati poco confortanti che arrivano dal bollettino emesso quotidianamente dalla regione campania la riapertura delle scuole ma anche l'invito alla calma e alla prevenzione che arriva direttamente dal presidente dell'ordine dei medici di Salerno Giovanni D'Angelo Sì, va bene, probabilmente stiamo pagando uno scotto con un leggero ritardo ma non ritardo da un punto di vista delle modalità di trasmissione del contagio per quello che è stata un'estate che si pensava che fosse una brutta estate da un punto di vista di affluenza in realtà poi è stata un'estate con molti turisti anche se sono turisti interni per la maggior parte cioè persone della stessa regione ma si sono mossi molto soprattutto verso il sud ma anche verso la costiera e tutto questo oramai penso che sia nella testa di ognuno che questo, come tutte le malattie virali si trasmette soprattutto con la vicinanza quindi il primo, quello che esisteva da quando è nato l'uomo è il distanziamento distanziamento e la riduzione dei contatti ovviamente senza che questo però possa chiaramente annullare potremmo dire quello che è la socialità di cui l'individuo ha bisogno e anche quelle che sono le condizioni necessarie per mantenere un minimo di economia che oramai galleggia non è certamente va bene ma già il galleggiare in una condizione di questo genere significa stare bene sostanzialmente rispetto a quel che sta il fatto che queste previsioni affidate non a elementi di carattere scientifico che sono conosciuti e riconoscibili da parte di studiosi che studiano questi fenomeni sono più che altre delle scommesse che oltretutto mi deve scusare se entro in cose che non sono così attinenti alla problematica sanitaria però immaginate che tutto questo dire si può essere un contagio non ci può essere un contagio aumenteranno, diminuiranno è come quando guardate il mondo dell'economia le linee di innalzo della borsa ribasso della borsa stagnazione della borsa cioè tutto questo segue questo flusso di notizie e secondo me questa è la ragione per cui molte volte compaiono perché chiaramente ogni notizia comporta un riflesso di natura economica io personalmente voglio dire ho un ottimo rapporto sapete che è stato ospite del nostro ordine proprio il vicepresidente dell'OMS Guerra e quindi figuriamoci se non ho piena fiducia e piena considerazione di quello che l'OMS anche perché è sua funzione dare questo messaggio però la tanta sicurezza in un'ondata non ce la vedo io vedo più che altro un qualcosa che si sta raggiungendo un livello di indemizzazione lentamente che non è ancora tale perché sarebbe un vantaggio questo e purtroppo vediamo che la possibilità che si sia l'impennata è legata solo ai nostri atteggiamenti le motivazioni sono diverse anche se in qualche misura fanno tutte riferimento all'emergenza covid dunque al rischio igienico sanitario riapertura che slitta in diverse realtà della provincia di Avellino si torna in classe venerdì a Rocca Bacerana e San Martino Valle Caudina tutto rinviato a lunedì 28 invece a Capriglia, Mercogliano, Montemiletto, Montoro Ospedaletto d'Alpinolo, Prata, Principato Ultra, Prato la Serra, Sumonte, Volturara bisognerà attendere il primo ottobre a Baiano, Sperone, Solofra e Montemarano a Rotondi ancora prima campanella solo lunedì 5 ottobre infine Gesualdo dove ci sarà un ritorno diversificato scuola dell'infanzia domani, primaria lunedì media giovedì 1 ottobre data fino alla quale è sospesa anche l'attività didattica in presenza a liceo musicale La scuola e la politica il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli spiega la decisione di posticipare la data di riapertura delle scuole in città e si sofferma sul dato elettorale delle regionali appena passate proprio a causa del voto molti istituti scolastici trasformati in seggi elettorali per l'occasione non sono riusciti a sanificare in tempo utile a garantire la massima sicurezza soprattutto ai tempi del coronavirus Le elezioni, gli spogli sono finiti tardi le scuole impegnate sono state tante molti dirigenti scolari si c'erano in angossa per i problemi della sanificazione insomma c'è stato un affastellarsi di aspetti che ci hanno suggerito un rivio di due giorni alla fin fine si tratta di un paio di giorni perché c'è un sabato e una domenica e mezzo quindi lunedì si riaprono le scuole e lo si fa in assoluta tranquillità e in assoluta sicurezza anti-covid sono le norme anti-covid che sono chiaramente esplicative i dirigenti scolastici che appunto sono dei dirigenti si assumono le loro responsabilità di lettura e di interpretazione della norma e si assumono le loro responsabilità mi sembra talmente chiare e positiva che non ci perderei molto tempo sono delle persone di grande spessore culturale e manageriale sono in grado di svolgere compiutamente la loro funzione amici Trebimeteo un saluto da Luca Pace giornata di giovedì che vedrà nel complesso tempo stabile soleggiato al mattino ma attenzione si avvicina questa intensa perturbazione dal nord Europa che porterà nella seconda parte del giorno intense precipitazioni sulle regioni settentrionali andiamola a vedere più nel dettaglio il focus sulle precipitazioni per quanto riguarda l'Italia come detto in avvio di giornata tempo nel complesso asciutto fatta eccezione per qualche debole precipitazione sulle tirreniche poi in serata peggiora invece al nord specie al nord ovest con l'arrivo di temporali anche di forte intensità in definitiva ecco la previsione per quanto riguarda la giornata di giovedì sull'Italia sarà una giornata che partirà come detto con tempo stabile soleggiato ovunque fatta eccezione al mattino per qualche rovescio o isolato temporale sulle regioni del medio versante tirrenico in serata poi peggiora al nord specie al nord ovest con fenomeni intensi attesi sul Levante e Ligure ma anche tra Piemonte e Lombardia altrove invece ampi spazi di sereno per quanto riguarda le temperature queste ancora non subiranno particolari variazioni continuerà a far caldo al centro sud con picchi di 29-30 gradi per quanto riguarda le temperature o Grazie a tutti.